La somministrazione di anticorpi monoclonali è il risultato di un'azione sinergica che vede certo l'ospedale al centro della somministrazione stessa, ma che ovviamente è il risultato di un rapporto di collaborazione che ha visto il commissario ad acta dell'area metropolitana, il dottore Pino Liberti, l'assessorato alla sanità, segnatamente il servizio farmaceutico della regione e ovviamente il servizio farmaceutico del policlinico con l'intervento del professore Drago. In questa piattaforma AIFA mettiamo le caratteristiche del paziente, perché il trattamento non è per tutti i pazienti covid positivi, ma soltanto per quelli che hanno dei fattori di rischio particolari. In modo particolare si riferisce la elegibilità a soggetti obesi con patologie renali, soprattutto dialisi, soggetti broncopatici e cardiopatici, cerebrovasculopatici e con problematiche di immunosoppressione sia primitiva sia secondaria, quindi i pazienti con patologie oncologiche, dongoematologiche, in trattamento con chemioterapici.